questa sera giovedì 26 ottobre sono finalmente iniziati i live della nuova edizione di x factor alla conduzione è tornata per il secondo anno di fila francesca michelin tra i giudici invece il pubblico ha ritrovato dar gen d'amico ambra angiolini e fedez tornato a lavoro dopo i problemi di salute ma l'elemento più atteso della serata è stato sicuramente il ritorno di morgan a distanza di anni il cantante è tornato a vestire i panni di giudice riuscendo fin da subito a non deludere le aspettative di fatti a pochi minuti dall'inizio del programma il leader dei blu vertigo ha già innescato la prima polemica cosa è successo esattamente a causare la discordia è stata l'esibizione di matteo alieno pierotti uno dei concorrenti della squadra di ambra angiolini quest'ultima gli ha assegnato il brano di annalisa bellissima riadattandolo in una versione più armonica e meno pop dopo la performance i quattro giudici sono stati chiamati ad esprimere la propria opinione il primo a dire la sua è stato fedez che ha confessato di non aver apprezzato il cambio di melodia della canzone ecco che allora è intervenuto morgan quest'ultimo però non si è limitato a commentare il ragazzo ma ha voluto scagliarsi proprio contro annalisa il suo brano tu potresti cantare tutto io non ti avrei mai assegnato una canzone così una canzone che io onestamente non conoscevo e che trovo di grande banalità dal punto di vista armonico ma tu sei talmente bravo che l'hai valorizzata quella canzone è armonicamente inesistente un attacco duro quello di morgan che non è affatto piaciuto ai numerosi fan dell'ex allieva di amici su twitter infatti si è scatenata una vera e propria bufera sul cantante contro il quale è arrivata una pioggia di critiche tra i diversi utenti che si sono scagliati contro di lui troviamo anche davide simonetta il produttore del brano bellissima nonché ex fidanzato di annalisa mai un successo e spiega cose che mondo splendido ha scritto riferendosi ovviamente a morgan e neanche a dirlo il tweet ha ricevuto subito un'ondata di likes e di commenti di supporto